bella tram vada in il viso johnny brauno e ma questa gente che passa qui che corre johnny brauno episodio 4 come i gatti che c'erano a vedere questa partita dove devo andare io ora a questo punto c'è ashley che c'ha da dimmi qualcosa ma io non so chi sia ashley quindi correrò in tondo per cercare i target devo parlare con quella lì io l'ho belle visto devo parlare con la social media manager ma questi tutti incravattati vieni qui social media manager che vuoi ma la social media manager si chiama ash come come ash hecchum guarda qui oi oi hanno postato qualche cosa chi sono questi per cosa sembra un telefono sarà bellino lui ha presente mp 29 di notte noia noia faceva l'enne 73 con dei tasti allucinanti e te con che ho detto con che ho detto i capellini tinti figurati te siete minima potenza ah ma fanno anche del sarcasmo ma che cos'è questo questo è tipo afternoon capito questo è il podcast ma è a me mi interessa questa cosa qui io gli devo stiacciare nel capo sul campo capito ma questa poi chi è ma perché mi stai facendo vedere questa roba si è dislocato la mandibola però cachi flissettati che cos'è un caco flissettato il tuo modo di giocare spazzatura il tuo agente spazzatura la tua ragazza spazzatura allora sul mio agente ti posso dare anche ragione perché onestamente si poteva trovare anche qualche cosa di meglio ma mara maionchi non me la devi toccare ma poi mai che ragione di che cosa si ragiona c'hai uno dietro lo schiali a specchio rossi ma semmai cambiata tra l'altro la social mia io mi pare vestita che cos'è la divisa d'ordinanza questi comunque non devono aver capito quanto so grosso io onestamente stanno a fare tutti i ragionamenti tutti i discorsi ma lo vedi quanto sono enorme dove bisogna 100 metri ma quanto ci metto io a fare 100 metri ma poi è tutto il tuo spiccinio di gente che cosa so i so sono i social che hanno come se c'avessi il visore vr di apple capito che mi arrivano in sovraimpressione di mentre io ragiono va bene e allora devo andare di va se andate via anche i giornalisti vai lavoro oh è buio notte inoltrata ma di notte si potrà fare qualche cosa in più in questa città oppure no se passo di quel tipo e questo vialetto illuminato con lumini di cimitero ma poi questa gente con il sombrero posso parlare con questo con il sombrero ma si era acceso un tasto r3 che succede se pigio r3 r3 la mia squadra che sta succedendo se ha buiato un'altra volta scorta cinese e questo è un gioco money grabber e a me un questo che c'ha in mano una freccia una che cos'è un table eh no è un tab ma pari menù di ristorante ti ho organizzato una sessione con josh gidei e ho capito e ti devo trovare però ora sono finito in un vicoletto buio che non lo so io se si se si esce da qui fammi vedere fammi un po' vedere che io sto esplorando perché a me mi è venuta noia di di andare target target a seguire tutte le cose ma qui è buio sodo ma un lampione sindaco comune ora trasgrediamo e si va a giro per la città si starà a vedere i target lì si lascia fare queste buche dove andate buche no è andato via buche e i minimarket minimarket e allora minimarket si potrà comprare qualcosa niente quindi non si può levigiare mai niente in questo posto ma poi un centro neanche io da quanto è piccino il minimarket e da quanto so grosso io fammi vedere di qua che c'è di qua si può entrare niente le scatole i cazzotti niente niente va dal lavoro poi io non so uscire dai posti dove so finire ma chi c'è il guoda ma chi è quello nella rivista i guodala scusa eh come si fa a muove la visuale quelle i guodala quelle i guodala ma perché c'hai la rivista di guodala e quest'altro è le bronna ai tempi di miami ma che giornalacci vecchi tu c'hai ma che roba vendi ma senti io io veramente in questa città c'è delle osse strane mi posso buttare di sotto da qui no ovviamente ah ma si può correre vada lì se pgr o agio che è questo r2 si può le corre io non lo sapevo attenzione perché qui ci dimezziamo i tempi da da un target a quell'altro posso entrare ma poi che cos'è la notte bianca e sono tutti i negozi aperti di notte ma per la notte bianca si potrà comprare qualcosa le scarpe posso comprare le scarpe niente posso aprire la porta neanche questa parte la porta di grande fratello posso entrare in grande fratello niente non si può entrare a sedere in questa seggiola niente non si può fare veramente niente in questo gioco cinese e allora andrò a giro vediamo se si trova qualche cosa da fare poi ho anche il target ma a me mi è venuto a noia di far tutto discorsi discorsi partite discorsi partite discorsi partite io volevo avere anche delle delle attività ricreative volevo essere meno casa e chiesa capito questo qui con lo skateboard non si può buttare in terra ma perché se voi accanto a questa gente vedi io posso pigiare r3 e mi appare il telefono e ora che posso fare io niente devo pagare posso solo pagare 2h league foto social media messaggi 2h tv foto foto camera ultima partita foto camera foto camera foto camera che posso fare con foto camera niente posso fare una foto a questo cinese facciamo una foto ai cinese tra eccolo fatta la foto ai cinese stay cool bravo ai cinese stay cool non è proprio il massimo della serata di mercoledì sera di mezz'agosto che uno va a giro fa cosa ma questo con la macchinina vabbè niente foto ai cinese e poi abbiamo inseguito in vano quello con la macchinina questi sono dei mega fidget spinner che cosa sono formato gigante panchine forse posso mettermi sulla panchina niente attenzione ho imparato a mettimi bada il lavoro la so la so bada lì bada lì ho imparato a mettimi le cuffie posso andare a sarabanda bada il lavoro guarda il lavoro di cuffie che ho trovato ma poi dove l'avevo scusa queste cuffie perché uno zaino non ce l'ho un marzupio neanche lo tirate fuori da dove questo per esempio mi pare un bell'ambientino per venire a fare cena possiamo fare cena ci si può le mettere a fare cena niente non ti danno neanche da mangiare e sai detto ma ruota ma mi posso no no ma attraverso ma io mi volevo far ruotare e ma attraversato anche quest'altro ma guarda succede delle ose succede delle ose in questo gioco e roba da chiodi eh non l'avessi pagato 80 euro td app che sarà posso entrare a td app o posso entrare no attenzione posso entrare a td app che vendete a td app signore niente lui non dà relazione signorina al banco se mai aperto la porta mi dovrai considerare niente qui l'ascensore niente ma perché mi avete aperto scusate se non posso fa niente ma comunque è una notte bianca che pare ma dove va quella corsa che pare la notte di giudizio più che la notte bianca vabbè e quantomeno ho fatto jogging eh mettiamola così non sono riuscito a raccattare niente sono distante 500 metri dai target sarà il caso che tra poco comincia a tornare indietro perché sennò qui prima d'arrivarci si fa mattina ma una mascotte sui monopattino e mi si mi mamma signorina poco vestita timidiz donut shop timidiz ma timidiz una ciambella per la disperazione me la darà se riesco a seccare la porta timidiz bada ai lavori bada che casino ha scritto in cui in menù mi riesce manco di scrivere in menù una ciambella signorina per cortesia un'interazione umana un pomodoro niente ma ma scusa un attimo quello è un mega serpente ma quello è enter the vipers è un viperone posso entrare in viperone attenzione attenzione che cosa perché nel mezzo della città ci dovrebbe essere un viperone cosa c'è in fondo ma cosa sta diventando questo episodio scusate e questo è cos'è lo stomaco della vipera no il villaggio dello stomaco vada lì no ma c'è un campo da basket nello stomaco della ma ma dove so ma che cosa sta succedendo ma di canestro c'è tutta una vipera ma è bellissimo io posso prendere questo pallone posso giocare per cortesia c'è un checkpoint però attenzione checkpoint per giocare in viperone ma poi volevo dire ma se ho pagato 80 euro per un gioco intero ma pagherò 60 euro per giocare in viperone ma io 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 sono esterrefatto questo con la giacca che corre ma perché corre il falò il falò c'è anche bisciglia attenzione ragazzi temptation viperone no bisciglia non c'è mai meno quassù on stage qui posso entrare posso giocare qui ci sono tre checkpoint almeno uno gratis sarà eh figurati no 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 te niente non ci puoi avere niente a che fare non mi chiedo neanche se posso fare il bagno nello stagno perché il problema fondamentale è che sto lontano una vita ora dai target e devo arrivare a ci vuole tre episodi per arrivarci mascotte mascotte ma la mascotte dj dei toronto raptors qualcosa dai la mancia al performer dai la mancia sto pigiando x x x si è arrivati il gatto ma forse non posso dare manco la mancia perché non c'ho una lira perché qui tutti ragionano capito e shep e maramayonchi e ash hecum ma nessuno che ancora abbia pagato uno stipendio neanche a stiantare questo gioca con il sombrero ti rendi onto ma comunque bada è questo posto strano sodo eh io il viperone non ho capito bene cioè non ho capito quasi niente proprio del gioco e visto che fanno dei giochi del genere credo anche della vita di non aver capito quasi niente però il viperone è la cosa più tremenda penso che si possa essere tanto posso passare di qui dentro almeno devi dentro soprattutto passare da dove si esce io non so neanche uscire e questo è il problema fondamentale perché questo è un labirinto ora ma come come fai oggi sono solo campi da pallacare guardalo guardalo lassù è terribile non mi riesci neanche ad arzare la visuale ti vuole far comprare il gioco anche nella pubblicità di dentro il gioco di dentro il gioco ti vuole far comprare il prossimo gioco guardalo guardalo com'è tremendo io gli ho detto devo fare una foto come si faceva a fare una foto no mi sono levato le cuffie la foto foto aspetta eh bisogna fare la foto appena scatta alla marchetta aspetta eh tirare su non va più su di così tra foto alla marchetta eccola là vabbè allora ho imparato a fare le foto ho imparato a mettimi le cuffie e ho imparato a corre quindi è stato un episodio fruttuoso però credo che finisca qui perché io non so uscire da questo posto ma si può chiedere aiuto un'informazione a qualche d'uno un google ma no ho ritrovato la bocca tran transfer year ma te parli no no che sta succedendo richiesta di cambio affiliazione potrai trasferirti ma da cosa a cosa mi devo trasferire che cosa io sì mi trasferisco vuoi davvero trasferire beast of the east e promettere la tua realtà south city viper in via richiesta trasferimento in corso che sta succedendo sto diventando sailor moon ma che cos'è ma mi si è acceso un sole in i capo il sole esiste per tutti che cosa è successo ma ma quindi ora che ho la vipera posso gioare scusate avevo trovato l'uscita ma ora che ho la vipera posso gioare era una questione di affiliazione ora con la vipera si gioa è uno spettacolo giusto giusto go next non disponibile che vuol dire go next allora posso qui saranno belle se fanno i tre contro tre sono belle sei non c'è posto qui posso gioare mi fate gioare qui niente bisogna pagare che la morale della vita è che te devi pagare e io ci ho anche perso avevo ritrovato l'uscita per questa boiata ho anche perso l'uscita sono diventato una vipera ma sentite sentite io mi sono bello e divertito pensavo di poter fare qualcosa in questa in questa città in questo ma è qui è tutto un magna magna qui si tira a fa a fa sordi ma è se fatta mattina ho girato tutta la notte ma veramente fatemi andare target vai ma poi secondo me questa città me la cambiano perché a me mi pare sempre diversa tutte le volte ora che sia possibile che uno non si orienti mai neanche a sti andare nemmeno per sbaglio quanto manca 300 metri ora capi capi capite un attimo me va bene ho fatto un sacco di questo mi è venuto addosso io ero fermo per cui era sfondamento ma è ho fatto un sacco di strada so tipo a metà so a 250 metri però io li ho trovato un vulcano quindi ora io volevo andare a fare la missione i target e le boiate ma io devo entrare in il vulcano devo capire cosa c'è qui che cosa c'è il lavoro in corso posso parlare con questi dei lavori in corso niente va bene voglio vedere cosa c'è di vulcano a questo punto per forza di ose perché vedrai anche se io comincio a moscammene secondo me questo è un altro posto tipo il viperone te entri dentro c'è un mondo parallelo non puoi giocare neanche a stiantare bisogna tu paghi per forza da vedere che di lo sapevo io guarda e a questo punto niente perché te ti presenti è il primo campo e lui ti vuoi far pagare capito sta a vedere o bada intanto c'è benny the bull quanto meno c'è benny the bull posso posso giocare go next non disponibile cosa vuoi benny the bull mi sono compenetrato con benny the bull posso fare una foto a benny the bull benny the bull benny the bull ma and'è andato benny the bull andavo via eh m'ero girato male fai un bel sorriso benny the bull tra cosa della guerra dei mondi e entri nei posti e non poi fa niente mi pare ma che c'è la metropolitana attenzione perché se c'è la no c'è la metropolitana incredibile e quindi e quindi io posso andare tipo tipo qui e sbc no vuoi davvero raggiungere sì davvero che mi fa pagare anche la metropolitana no o attenzione perché qui si apre si aprono degli scenari già la metropolitana forza ora prossimo episodio faremo anche un giro in metropolitana per esplorare tutte le mete turistiche della città ora però bisogna vada a ragionare con che tu va perché è sei ore che mi aspetta per cui credo ci abbia da dimmi la cosa ma non era lui che dovevo parlare ma con chi devo parlare scusate quattro metri con te devo parlare asce asce le sedie ma come le sedie non sono una persona da sedie e che si sta riti tutta sera comunque asce tu c'hai dell'occhiaio e tu paitoni capuozzo io sinceramente comincerei intanto a ridurre i caffè prima osa che comunque è una roba che già uno è nervoso mette pezzi e piglia i caffè poi anche il lavoro non aiuta onestamente ma un po un po di ferie non voglio attaccare hendrick io voglio attaccare hendrick perkins ma t'hai presente il giocatore che era ha giocato una vita non è stato buono di un biciare niente rarto sei e dieci gli facevano fare il centro faceva solo fallo in attacco ci vediamo allo studio ci sarò anch'io 340 metri c'è da fa e ma la metropolitana non c'è qui bisogna ci vada a piedi quando sono nei paesaggi lagga non ho capito bene perché ma che cos'è il golden fiume no attenzione posso saltare sulle rocce e quindi se ora passo di qua che sta succedendo il castello ragazzi ma il castello è terribile pari il castello di bowser quando gioavi a nintendo a mario su nintendo 64 ma e ma dove si deve andare cosa si deve fare in questo posto io di qui non esco neanche a stiantà fammi uscire subito perché se no io qui è finita proprio la vita 230 metri c'è un poste di hobby bryant a tutto a tutto palazzo questo è freddy mercury ovvia ci si è fatta ma si entra di qui di dove si entra dove si entra bisogna pigliare l'ascensore ascensore chi abbiamo qui ashley ah ma ash stava pe ashley ash stava pe ashley e questa signorina jocelyn davis io conoscevo brandon e la sorella di brandon davis forza ci abbiamo già dell'agganci sono disponibile a parlare di tutto compreso owens ci aspettano domande scomode ma ci penso io te non ti dei preoccupare di niente siamo molto attenti all'etichetta e alla prassi no bisogna combattere non si può stare attenti all'etichetta e alla prassi bisogna vedere chi interviene ci sono le telefonate da casa telefona anna da roma oh siamo pronti siamo arrivati come va sam wood sono un tuo fan ma questo è jj re no ma questo è perkins e noi si aveva paura di perchi ma l'ha visto come l'ha fatti cinese pare leone di lernia ma che si sta parlando ma veramente forza ragazzi c'è jj ready che c'ha più io posso fare un un encomio a più per cominciare la trasmissione soltanto che io non riesco a fa canesso da sotto provato a stiacciare mi riesce di stiacciare manco vinoli e questo c'ha più da treppi capisci io solo di questo voglio parlare il resto sono boiate che effetto fa sentirsi fischiare al draft se non fosse stato per la stampa non me ne sarei accorto fa parte del gioco ma è mani nel viso c'è l'opzione gli metti rimane no non si può giustamente bisogna mantenere un certo se non fosse stato per la stampa non me ne sarei accorto sì si prova subito a mettere zizzagna si prova a dargli addosso si contrattacca forza senza offesa ma guarda guarda come si mette bada come si fa polemica c'ho anche capelli in carta pecoriti bada tutti i pixelati qualcuno applaude qualcuno fischia noi si dà le risposte più politicamente corretti c'è toni da milano che fai jingle qui c'è polemica qui c'è polemica qui si va ma zotti tutto qui non sarò seduto qui a far finta di essere ciò che non sono ma te l'hai visto quando sono grosso onestamente mi fate fare una domanda oh a jk reddy che forza restiamo un momento una parte fondamentale in terminazione della giocata del fatto che il shep owens il tuo grande rivale sia rimasto sul tabellone del draft che vuol dire ah che hanno scelto prima me era una licenza poetica per dire che hanno scelto perché sono più sono più grosso fondamentalmente cosa rispondi a chi dice che hai già espresso quasi tutto il tuo potenziale shep è un atleta io sono un giocatore capisco perché la pensino così ma non condivido shep è un atleta io sono un giocatore è trash talking forza ragazzi di gran maestro di trash talking si starà a vedere telefono se è un gioco serio ora shep owens piglia la linea e telefona da casa e si comincia a disene quante se ne sa jj amico mio sinceramente no bravo guarda anche senza dargli la risposta ha capito di che panni ci si veste bravo eh purtroppo hai ragione il fatto è che ora hanno messo l'internament season capito e quindi Larry O'Brien cioè cominciano vabbè comunque indietro se ne riparlerà cosa rispondi a shep owens che ti ha citato nel tuo reality show quello è capace di prendersela con te con la tua famiglia con la tua ragazza ma c'è l'opzione l'hai visto quanto sono grosso no cos'è da dire sul reality show shep è un miserabile mi vergogno shep è un miserabile ma poi anche la parola giusta hanno trovato dai che funziona forza ragazzi qui qui viene fuori qui viene ma che programma allucinante che ho tirato fuori ma io ospite fisso mi dovete portare tutte le sere per forza stavolta la fa dopo barisoni si va noi qui con questo siparietto ecco questo sta tirando a chiudere perché giustamente se bello è fatto troppi danni abbiamo finito il tempo l'esta è stata la cosa è stato un piacere dobbiamo chiudere ah ma mi sta chiudendo prima perché ho detto cose scomode siamo arrivati alla censura ora io temo che che qualcuno ci sia vada le reazioni social vedi vada come me la rido gagliardo guardalo beffardo ma chi è quello richi rubio ma io credo che questo episodio sinceramente non possa finire in maniera migliore di così se è fatto dei danni peggio della grandine e ora si va via bellissimo guarda ora se riesco a fare un'inquadratura a dove dove lo studio eccoci a si chiude così con questa inquadratura da meme capito con lo studio di top takes daily in fiamme dietro di noi e si va via coi sorriso beffardo come joker ci si vede mercoledì prossimo oggi non si è fatto manco una partita ma c'era un sacco di roba non si è fatto manco un sacco di roba